Anna Marchesini E questo è Moscerine, edito da Rizzoli di cui parliamo tra poco con Anna Marchesini anche perché la scrittura per Anna è una cosa importante è meglio ascoltarla piuttosto che fare domande prima però volevo farti gli auguri per il tuo compleanno che è appena trascorso, lunedì scorso tranne che poi non si capisce che giorno era il tuo compleanno dunque io sono nata il 19 novembre di 35 anni fa il signore non si dice, il 19 novembre il 19 novembre però non avevo però sono stata evidentemente segnata in comune qualche giorno dopo dal mio babbo che essendo la terza io credo che non si ricordasse neanche e allora con l'impiegata cominciava a fare è nata, quando cazzo è nata? sarà nata qualche giorno fa quando è nata? perché mio babbo era toscano e dice non lo so Galileo io non lo so Galileo oggi che giorno è? sarà nata 3-4 giorni fa e dice metti c'è il 18 e quindi da lì in poi dicevo gli auguri il 18 e ormai ho quindi sulla carta di td c'è il 18 però tu sei nata il 19 allora gli auguri quelli che si riferiscono agli auguri ufficiali me li fanno il 18 poi il 19 me li rifanno però a me li avevano già fatti poi mi chiamano i telefoni e mi dicono che li devo fare oggi o domani ma non me li fare fammeli fammeli non me li fare ecco del 19 siamo sicuri invece il 19 siamo sicuri sì perché? perché sono diciamo la data uterina ah ok ecco la mamma mater sempre certa compreso il fatto che il complejo infatti sempre chiedevo mamma ma sei sicura? cocca mia l'ho fatto io ecco quindi il 19 me lo facciamo sicuri dunque come ha detto Filippa prima il tuo terzo libro i primi due sono romanzi questo invece è un libro di racconti di racconti sì che tu hai detto viene ingiustamente considerato come dire una letteratura diversa no? sì minore perché racconta che invece naturalmente non è così ma allora in genere io scrivo anche molto a secondo di quello ispirata riempita arricchita ingrassata da quello che leggo e venivo dalla rilettura della delle novelle di Pirandello sai quei volumi enormi cicciosi che non finiscono mai che quando li apri si sentono proprio le voci tutta l'umanità che c'è dentro e quando le richiudi ti sembra proprio di imboscare una popolazione intera e allora voglia proprio di raccontare dei piccoli romanzi brevi in fondo dove tutti i personaggi fossero sempre protagonisti perché in un romanzo in fondo c'è i protagonisti e i protagonisti facciamo quelli minori invece qua ognuno ha la sua storia che è come la vita no le vite degli altri in ogni vita degli altri chi la vive ne è il protagonista perdente o vincente e quindi questo voglio raccontare i racconti che sono anche comici anche sì sono racconti anche comici anche divertenti adesso ne parliamo naturalmente la 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 obbligatoria domanda sul titolo perché moscerine moscerine ti ricordi una volta prima ancora che uscisse il libro ne parlammo e mi dicesti che si doveva chiamare dentro la cruna la cruna poi uno si dice io mi sono chiedendo la mia ingenuità uno dice dentro la cruna lo cambia e diventa la cruna oppure il filo invece proprio dentro la cruna moscerine però però se ci pensi bene il buchino e niente no il buchino della cruna si mi raccomando è piccino no no perché io Merope me la ricordo ancora Merope Generosa io me la ricordo quella psicologa chiamasi il buchino della cruna quella quella diciamo quel foro un foro quel foro quel 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 dove si introdurre il 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 filo 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 quando è sottile è anche filo diciamo poi c'è anche una bella corda ecco questa è l'improvvisazione Anna Marchesini allora no diceva da moscerine ecco moscerine dentro la cruna molte anche diciamo moscerine ma l'ho piccola piccola no dentro la cruna passa qualcosa di diciamo di proprio inavvertibile di piccolissimo di minimale diciamo come può essere a volte non so anche un orgasmo femminile oppure basta 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 e anche moscerine è in effetti un elemento piccolissimo c'è dettagli moscerine né quello è interessante sì perché chi ce lo dice che i moscerini sono tutti maschi io ho pensato qualcuno sarà pure femmina e allora l'ho dedicato a quelle che sono femmine uno dice le mosche i mosconi come a dire più grandi più importanti i lumache i mosconi non è che sempre il maschi deve ingrandire allora moscerine i piccoli accadimenti le piccolissime piccolissime accidenti che accadono nella vita e che però invisibili ecco volevo proprio guardare l'invisibile quello invisibile che però rende modifica gli avvenimenti della vita e a volte cambia il tuo finale e può avvenire in qualsiasi momento della tua esistenza all'inizio alla fine in punto di morte chi dice chissà com'è quella moscerina l'attimo che passa prima ci sono e l'attimo in cui non ci sei più come dire non parla solo di questo però parla anche di questo nel senso che in realtà è una riflessione attraverso i personaggi che popolano queste pagine è una riflessione insomma quelli che leggono i libri degli altri poi c'è l'autore di fronte quindi ciò diventa ancora più divertente dare proprio esprimere quello che uno ha capito di quel libro cercavo l'autore no ah no io 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 se uno se uno se uno dovesse fare proprio se uno dovesse dire una cosa ecco che viene fuori dalla lettura di questo libro direbbe beh è proprio un libro che ti fa capire che ti fa capire attraverso le sue storie molte delle quali molto divertenti e quindi si ride si fa ti fa proprio capire quanto bisogno ci sia di vitalità e quanto tutto faccia parte della vita qualunque esperienza dalla più comica alla più tragica ma insomma se uno anche per fregare un po' la vita mantenere la curiosità sempre sino all'ultimo di qualunque esperienza che componga la vita qualunque anche quelle dolorose è la cosa più vitale che si possa fare guarda qui in genere uno cerca di dirlo con la testa no di convincere che sia qualcosa che viene da un ragionamento logico invece io ti garantisco io vi garanti io ve lo giuro che so che sono così interessata appiccicata morbosamente ghiotta e obesa di vita proprio sono così interessata della vita che mi interessa pure la morte che di essa è il finale e non è detto e quindi qualsiasi in fondo mi astengo dal giudizio che sia qualcosa di bello o di brutto perché è qualcosa che ci accade e quindi tutto quello che ci accade è osservabile tanto più l'indicibile quello che cammina nel sottosuolo quello che non in genere non compare mai che non abbiamo il permesso di dire che non abbiamo il coraggio di dire quanto parlo bene quando vengo qui è una torsia grazie grazie sono tanti argomenti non ce la faremo perché è divertente parlare con te molto divertente senti hai detto che la scrittura per te è la felicità e la tua seconda felicità è il commento del lettore è sapere che impressione ha fatto quello che ho scritto perché aggiunge a quello che ho scritto oltre a fare mi fa capire che ho venduto il libro però non è tanto quello è quanto siccome la scrittura diaristica quella troppo personalizzata quella che io so così e così quella che io dico puzza quando uno scrive cerca di fare in modo che quello che dice sia generalizzabile cioè che le persone si possano identificare anch'io conosco il personaggio lì l'ho visto anch'io per strada esatto io ho sentito anch'io così eccetera quindi se l'altro ti dà una una risposta di quello che gli è piaciuto di più di quello che si è sentito di più di quello che ha scoperto di quanto gli sia piaciuto eccetera per me questa è una seconda felicità perché equivale all'applauso del teatro equivale perché il libro cammina da solo e tu non sai con le sue gambe che fortuna farà che eventi avrà se piacerà se lo coccoleranno in quale cazzo finirà terranno vicino a sede per dormire senti i protagonisti di questi racconti sono persone apparentemente diciamo non diciamo non dei protagonisti insomma sono apparentemente non dei vincenti non hanno grande rilevanza ecco c'è un motivo per cui hai scelto questo denominatore comune sia quelli che parlano di dolore o quelli che invece sono più semplicemente divertenti ma intanto diciamo per esempio ci sono alcuni personaggi di grande forza tipo la Maria Luce Colli che insomma voi adesso non dovete leggere perché se no poi come si fa va bene che sono estremamente forti e tirano fuori una forza enorme da anche una nascita piuttosto banale persone che sono apparentemente hanno una partenza svantaggiata e poi raggiungono un culmine una prova che la vita pone davanti a loro e sopravvissuti a quella prova e poi diventano in fondo forti perché hanno avuto come la loro terribile punto d'arrivo che però li ha resi immuni da prove più diciamo meno difficili quindi a me piace raccontare non l'odio e poi sicuramente sono più portata ad osservare un po' il cerchio dell'umanità di un po' di queste ombre un po' disperse di queste umanità meno visibili per la punta anche qui insomma moscerine anche loro insomma anche i protagonisti sono un po' dettagli apparentemente trascurabili che però serviti a dovere diventano degli antieroi ma cioè diventano dei protagonisti no perché poi insomma se uno legge il libro in qualche modo guardandolo anche attraverso i personaggi che ha interpretato Anna Marchesina nella sua carriera si scopre in questi personaggi in quelli passami il termine per banalizzare tragici il senso del comico invece che tu avevi nei tuoi personaggi rappresentati a teatro in televisione e viceversa in quelli comici questa volta sono nudi cioè è come se il libro dicesse la verità di quelle persone che tante volte abbiamo visto bravo dire la verità è questo che che secondo me un attore e uno scrittore può fare al massimo e quando ci piace qualcosa ci piace perché è vero infatti perché ti corrisponde perché dice la verità anche se un attore che dice la verità è un'apparente contraddizione sono apparente perché diciamo che specialmente in teatro non si finge in teatro si rappresenta si fa una maratona emozionale e anche fisica che passa attraverso il tuo corpo la storia passa attraverso il tuo corpo e tu stesso sei la verità di quello che dice ma quando parlo bene quando sono una cosa non so non so come fate a rimanere calmi io non lo so non lo so domani domani sul sull'inserto del Corriere della lettura uscirà una riflessione un articolo di Anna Marchesini sull'umorismo in cui tu racconti il tuo primo incontro con il comico inteso come come genere vuoi anticiparcelo? ma come no il titolo un po' che mi è stato dato è proprio il senso del comico se ha ancora senso parlare del comico il senso del comico il senso del comico sguardo critico sul presente e sul futuro si esprima con parole sue io era così hai ragione dica il candidato dica il candidato mamma mia anonimo allora stanche che il comico così come il tragico ritengo sia la forma di arte più alta che è difficile che c'è il comico l'umorismo e il comico non l'insattenimento non non la battuta non il capareno non la parolaccia non il tormentone non il divertissement non il essere buffo e quindi far ridere di sé ecco far ridere di sé come accade molto spesso tirando giù così un po' le mutande oppure prendendosi goffo facendosi trovare quella non è comicità perché comicità significa non ridere di te ma far ridere per te cioè grazie attraverso di te primo secondo il narcisismo è il peggiore dei difetti che può avere un uomo e un attore il narcisismo è l'esatto contrario del talento perché il narcisismo è autoreferenziale no? sì lo so sto parlando bene ma lo devo dire nel senso che tutto quello che fai ha lo scopo no? di riverberare su di te una questione di vita o di morte se non hai quell'applauso mentre il talento è una specie di prodotto di una scusate devo dire una cosa un po' forte di una intelligenza morale vergogna 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 allora l'ha detto senti no ti va di per salutarci da moscerine Rizzoli di leggerci così se voglia un brevissimo brano questo è proprio quello che io porto in teatro si si intitola Cirino e Marilda non si può fare ah sì non si può fare si capirà perché sì allora Cirino vive in una pensione ha una storia che sarebbe troppo lunga a dirvi a meno che non finiamo la puntata con me posso anche finire tutti i protagonisti i personaggi fare i titoli di coda posso anche mettermi vicino a te Fabio intervistare chi viene posso fare anche Filippa Filippa no è troppo figa non potrei mai ugualiarla allora la signora la signora Olimpia la tenutaria della pensione era una donna immensa aveva l'aria di una megattera un mammiferone antropofago che a furia di farsi gli affari di tutti pareva che avesse ingurgitato un condominio intero e ora lo portasse dietro con sé con gran fatica con tanta lentezza e tanta goffa stracchezza muoveva il suo grottesco ingombro dalla stazza comica quasi caricaturale la signora Olimpia aveva perduto il marito in tragiche circostanze era stato trovato morto soffocato dentro il suo letto qualcuno munito per lo più di una scarsa e indocile benevolenza aveva voluto insinuare che la moglie insomma che il povero sor Mimmo si fosse venuto a trovare nel sonno nella sfortunata condizione di sostare troppo al ridosso del corpaccio della signora Olimpia e che questa dovendosi rigirare su un fianco durante la complicata manovra avesse avuto l'avventura di smottare e di rotolargli addosso al povero defunto che si era trovato così a non poter respirare né tantomeno a chiedere aiuto al pari di un malcapitato alpinista che fosse rimasto sepolto sotto una rovinosa slavina la signora Olimpia ad ogni buon conto andava dicendo che da quel giorno le si era guastato il sonno che fosse vero o no codesta doveva essere la causa di quella sua perenne fiacchezza e di quei certi occhi stanchi e barlacchi che portava ormai semichiusi e perduti dentro cuscinetti di ciccia pallida e avvicita con quel colorito verdognolo e la pelle gonfia e tesa quasi trasparente si poteva vedere chiaramente la rete delle vene che ci scorreva sotto il fatto è che le responsabilità della signora Olimpia erano aumentate adesso da quando era diventata vedova era costita a svolgere anche le mansioni del marito come se fosse lui e così pareva che si fosse ingurgitato pure il sonnimo che se lo portasse appresso con sé come una maledizione siamese una malformazione cui il destino l'aveva condannata madonna del Carmine tutto su di lei gravava una figlia l'aveva sì la marida una spilungò una mingherlina tutta suo padre madonna santa si avvicinava ai 40 e nessuno mostrava veruna intenzione di pigliarsela al diavolo anche lei al diavolo il destino la fortuna che pareva avesse rinunciato a salire fino lassù esattamente da quando era stato stabilito quell'ascensore si dovesse fermare al cesto piano cioè in sostanza da quando la signora Olimpia era arrivata la pensione giovane snella sottile caruccia come una ciuga una silvide tanto caruccia un punto vita che in me invidiavano tutte altro che me gattiera per carità era stata tutta colpa di una trasfusione di sangue sbagliata gliel'avevano fatta appena dopo il parto quando ero mezzo rincoglionito chi ci ha capito niente sti disgraziati assassini le dottori mora ammazzate tutti quanti aglio continuo dobbiamo salutarci e non la felicità però ci dispiace tanto continuiamo noi da soli Anna Marchesi Moscerine Rizzoli grazie grazie vediamo la prossima volta ciao 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 Filippa